Al Grande Fratello si sta parlando ancora di Shaila. Come sapete, gli altri non sanno che lei e Lorenzo sono nella versione spagnola del reality show, infatti pensano che siano stati eliminati. Ora Iago Gar si ha rotto il silenzio e ha svelato qualcosa di importante sulla gatta, ma prontamente è intervenuta la regia per zittirlo ed evitare che il pubblico sentisse altro. Tutto il discorso è iniziato al Grande Fratello, quando parlando di Shaila e Lorenzo, Jessica si è girata verso Iago e Avier, dicendo, sicuro Shaila torna per un confronto. Anche perché devi capire se è arrabbiata che tu hai detto la verità. Poi Avier ha aggiunto dal canto suo, ma certo, sicuro. Ma lei mi odia adesso, sicuro al 100%. Può anche essere che lei abbia detto tutto. Grande Fratello, rivelazioni su Shaila da parte di Iago, gli autori censurano. A quel punto è intervenuto nel discorso Iago, che mentre era in giardino con Jessica e Avier, ha parlato così di Shaila, ma non è che magari lei ha confermato che effettivamente sotto le lenzuola. Può essere che comunque siano effettivamente usciti. Anche se noi non l'abbiamo visto, ma magari lei ha avuto modo di guardare una clip dove si vedeva il vostro rapporto sotto le lenzuola. Anche il pubblico lo vede. Poi Iago ha detto ancora, forse hanno visto delle clip vostre. Mi hanno chiesto di lei oggi, però molto, sai come volendo che dicessi cose un po'. E il discorso si è interrotto lì per volontà degli autori del Grande Fratello. Quindi, resta il mistero su ciò che stava per dire sull'ex velina di Striscia la notizia, staremo a vedere nei prossimi giorni se ci saranno aggiornamenti, con Iago che potrebbe anche essere convocato nel confessionale.